Parla fanazzurri benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra, ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. L'ex capitano del Napoli Marek Hamshik, soprannominato Marek Harol dalla sua gente, si è raccontato in una bellissima intervista concessa ai canali ufficiali del club. Sono stati 12 anni di successi quelli di Hamshik, che a Napoli è diventato uno dei centrocampisti più forti d'Europa prima di emigrare in Turchia. Napoli, parla Hamshik, per me una seconda casa, in Turchia mi trovo bene. Ora al Trabzonspor, lo slovacco ha giocato oltre 400 partite con la maglia del Napoli, segnando oltre 100 gol, ed essendo per un periodo anche il recordman dei partenopei per le reti segnate in Serie A. Hamshik ha parlato della sua vita a Napoli, della gioia nel giocare in Turchia, dove tra l'altro ha vinto lo scudetto, e anche del rapporto con gli ex compagni, Napoli per me è come una seconda casa. Sono slovacco, ma ho abitato lì per 12 anni. In Turchia mi trovo davvero bene, ho anche conquistato il mio primo scudetto della carriera, il mio club non lo vinceva da 38 anni, i festeggiamenti sono stati magnifici. Di ex compagni qualcuno sento, tuttavia non sono uno che scrive ogni settimana ma quando bisogna fare auguri o complimenti gli scrivo sempre con gioia. A chi non piace questo Napoli? Sta facendo partite straordinarie. Tutti lo seguono, lo invidiano, speriamo che riescano a mantenere questo passo fino alla fine. Ehi fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.